Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video di Clash of Plants Oggi sono qua per fare una specie di video aggiornamento E volevo dirvi che mancano solamente 4 giorni al mio TH9 Oggi andremo a farmare un po' di elisir nero Così appena ho il TH9 mi compro subito la regina Quindi devo farmarne tipo un botto così la miglioro subito di un paio di livelli Andremo ad attaccare con 20 giganti, un paio spaccamuro, un po' di maghi e due pecca E con due cure e una furia Quindi io vado a cercare qualcuno poi lo attacchiamo Io direi di attaccare questo qua che ha 1900 di nero che non è per niente male Quindi direi di partire da sotto dove c'è la torre dello stregone Con i nostri giganti Ci buttiamo degli spaccamuro, i maghi per ripulire Aspettiamo un po' appena buttano giù i fese, gli edifici E andiamo giù di pecca e re barbalo Cerchiamo di mandarli tutti al centro Cura Per i nostri giganti Buttiamo una furia Ci stanno andando verso il nero L'importante è che prendiamo il nero perché è l'unica cosa che mi interessa Visto che qua non c'è nient'altro a prendere Nooo Le mongolfiere nel clan Possiamo dire che questo sarà un fail Sì Perché le mongolfiere ci massacreranno tutti No, le abbiamo fatte fuori subito Subito Ci hanno massacrato due pecca E il nostro re barbalo Però abbiamo un crei gigante in vita che penso non faranno più niente Cerchiamo di fare almeno una stella Così almeno non abbiamo failato Il Muni è rimasto tipo con un pelo di vita Quindi dobbiamo cercare di buttarlo giù a tutti i costi Se no Questo sarebbe un fail ma non credo Ormai abbiamo vinto Boom una stella Vediamo se il mago riesce a prenderci L'ultimo nero che è rimasto nell'estrattore Nell'estrattore E giustamente Quando mai va verso Quello che serve Ok Buttiamo giù quello e possiamo anche terminare la battaglia Visto che abbiamo preso ormai Tutto Sì Terminiamo la battaglia Abbiamo preso 1600 di nero Che non è per niente male Ora farmerò un po' io da solo E Cercherò di fare un po' D'arrivare a 40.000 Così ci compriamo subito la regina Comunque questo video finisce qua Se volete lasciate un mi piace Un commento Quello che volete Ciao ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video